Covid-19 sono 568 nuovi positivi in Sicilia, Sreacusa 65 nuovi casi con un focolaio noto. In Sicilia nelle ultime 24 ore ci sono 568 nuovi positivi, salgono così a 10.945 gli attuali positivi con un incremento di 390. Di questi 775 sono i ricoverati, 677 in regime ordinario, 35 in più e 98 in terapia intensiva con un incremento di 3 ricoveri, 10.170 si trovano in isolamento domiciliare. Si registrano nuove vittime, sono ben 11 decessi anche oggi che portano il totale a 439, i guariti sono 167, i tamponi effettuati 4.976. Sul fronte della distribuzione territoriale Palermo torna in testa al contagio con 220 nuovi positivi in più, Catania ne fa registrare 121, a Messina sono 89, a Siracusa 65, ad Agrigento 35, Enna 24, a Caltanissetta 9, Trapani 3 e a Ragusa 2. Il caso Siracusa con 65 positivi, l'esclua è dovuto al contagio in una casa di riposo di noto, un nuovo focolaio si è registrato in un'altra struttura che ospita anziani. Sono nel complesso 35 le persone positive tra operatori anziani, dice il sindaco di noto Corrado Bonfanti. Due sono stati ricoverati nel reparto di infettivologia di Siracusa, tutti gli altri asintomatici o pauci asintomatici. Infine due passeggeri positivi in una nave da crociera appena entrata nel porto di Siracusa, divieto di sbarco per i passeggeri. Anche in Sicilia dobbiamo prepararci al peggio, servono sempre più posti letto per i positivi bisognosi di cure e sempre più posti di terapia intensiva perché è in grave difficoltà, dice in modo allarmato il presidente della regione siciliana nell'Omusumeci.